Ancora in diretta a nostra compagnia, cambiamo argomento, adesso parliamo di arte e lo facciamo in maniera molto divertente, perché in realtà parliamo della street art che è molto in voga in questo momento storico e parliamo soprattutto di Banksy, questo artista straordinario, considerato a gran voce un genio, la cui identità resta tuttavia celata, sappiamo che è di Bristol, è inglese, è giovanissimo, le sue opere valgono milioni di euro, sta esponendo in tutto il mondo, a Napoli arriva finalmente da noi, dalle nostre parti, fino al 16 febbraio di quest'anno presso il Pan di Napoli, Palazzo delle Arti di Napoli, arriva una mostra a lui dedicata, Banksy e la post street art, adesso vedremo anche perché post, perché in realtà si tratta di una idea innovativa al di là del filone che lui segue o che fa seguire di sé. Andrea Ingenito ce la presenta questa mostra, lui che è un gallerista ed è naturalmente un esperto di questo artista. Ben trovato. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Allora, questo artista un po' ricercato, la sua identità ha creato attorno a Sione un alone di mistero quasi. Napoli la scopre attraverso un'opera straordinaria. Beh, Napoli è stata la prima città italiana ad avere una testimonianza di questo straordinario artista che è quella lì in via Benedetto Croce, Girolamini, la famosa Madonna con la pistola, che è stato il primo murales che lui ha realizzato appunto in Italia. E ancora una volta Napoli, ecco che nonostante si dicano, si facciano spesso molte critiche, nel mondo dell'arte contemporanea spesso è proprio all'avanguardia su tanti fenomeni. Non a caso Banksy ha scelto proprio questa città per fare questa sua prima opera, così come in passato è avvenuto con Warhol, con Ehring e con altri straordinari maestri. Anzi, per tanti versi Banksy mi ricorda un po' proprio un fenomeno molto simile a quello di Warhol negli anni Ottanta. Misterioso, provocatorio, anche un po' irriverente, no? Che cosa si c'è là dietro ai graffiti di un artista, di un talento come Banksy? Ecco, che tra l'altro ha detta sua, rivederlo inchiuso in una mostra, in una galleria, stona un po', fa un po' strano. Assolutamente sì, è stato proprio lì il racconto dove è nato questo racconto, insomma, che appunto è Banksy e a dovere di cronaca è la post-street art in quanto è accompagnato da altri tre street artist, che uno è Mr. Brainwash, l'altro è Obey e l'altro è Saved Wall. Questo racconto nasce proprio dal momento in cui queste opere, dalla strada, sono appunto entrate nel sistema dell'arte tradizionale, quindi nelle case d'aste, nelle gallerie. Forse è giusto, forse è giusto anche, no? Ed ecco perché appunto post-street art. Io se lei è d'accordo approfitterei di questa competenza in materia, perché resta sempre un po' nell'ombra questa qualità artistica di coloro i quali utilizzano delle tecniche particolari. Nella fattispecie parliamo dello stencil, delle maschere sulle quali si applica il colore, si creano delle forme ben definite, che però raccontano degli eventi della contemporaneità forti, una sorta se vogliamo di giornalismo d'assalto in qualche maniera. Che cos'è, come si interpreta questa forma d'arte oggi? Perché è reputata tale? Ma quella di Banks in particolar modo è molto legata a dei messaggi etici, politici e culturali ed è stata proprio lì, ecco vedo scorrere le immagini, molti di questi appunto mandano dei messaggi molto chiari, spesso anche con ironia, no? Si affrontano dei temi provocatori, senza ombra di dubbio, perché Banks è anzitutto un grandissimo comunicatore. Una collettiva che sicuramente parte con Banks, però in realtà procederà con altri artisti di medesima caratura? Sì, infatti dicevo prima, è accompagnato da altri tre artisti nelle altre sale, per un totale di circa 70 opere esposte. C'è qualcosa che l'arte di Banks può ritrovarsi anche nella Napoli sovversiva, no? Se vogliamo? Bah, direi proprio di sì. Napoli è per tutti gli artisti sempre comunque una grande attrazione. E per un artista che ha delle idee come quelle di Banks non può essere altrimenti. Che cos'è oggi la street art? Per lei, per gli esperti del settore, per i ragazzi soprattutto? Che cosa rappresenta? Un motivo di fuga? Rappresenta un motivo per dire la propria? Per criticare un sistema politico, un sistema culturale, sociale? È un mezzo, è un'arma, è pubblicità? Che cos'è? È sicuramente tutto questo che le ha detto, ma è anche un fenomeno che piace a tutti, è molto trasversale, quindi dai giovani fino anche, io vedo con la mostra in corso... Perché è comprensibile, eh? Molto, esatto, è facilmente comprensibile, è chiaro, è piacevole, è proprio gradevole, anche esteticamente parlando, quindi è una cosa che coinvolge veramente facilmente tutti i baci. Tra l'altro anche, sì è vero, perché a Napoli ecco la street art è un processo creativo in crescita esponenziale, anche molto forte, però le chiedo se alle volte può mancare quel messaggio che si cela poi dietro alla loro arte, no? Un messaggio che difficilmente riusciremo a dire se non attraverso, ecco, l'opera geniale della street art. Beh, sì, oggi è pure troppo dilagante il fenomeno, infatti non tutti poi questi artisti... Quasi nessuno. A parte qualche eccezione, a parte qualche eccezione come blu... Beh, è molto di moda adesso questo fenomeno, lo vediamo proprio nella nostra città, ma così come in tante altre città che è completamente in basa da questi tipi di operazioni. Sì, perché a volte si fa confusione, no? Tra un muro colorato, disegnato, e un'opera d'arte. Un'opera d'arte che c'era comunque un significato, un significato molte volte coraggioso. Certo, certo. Infatti non tutte le opere che vediamo in giro spesso hanno questo messaggio all'interno. Il pubblico di riferimento in questo caso, perché la street art ha un pubblico molto giovanile, in questo caso dovremmo fare un percorso a rovesciare la classe, perché molte volte quando si parla di mostre, opere d'arte, sono sempre quelle classiche, dove si preferisce avere come nuova classe, come nuovo target, quello giovanile. Qui invece la classe viene rovesciata, il pubblico deve essere anche un po' quello adulto che deve comprenderne i fenomeni nuovi che accadono all'interno della società. E accade così? Penso proprio di sì, guardi, anche perché noi, neanche a farla apposta, abbiamo al piano sotto di noi una mostra di Miró, che è un artista completamente diverso dal nostro. E alla fine, parlando con l'organizzatore, ci siamo resi conto che fare un unico biglietto integrato funzionava benissimo per entrambi, così come è stato fatto. Poi diciamoci la verità, la gente è più catturata da questo genere di arti, anziché da quella classica, insomma, quando ci sono delle opere, grandi artisti della nostra epoche trascorse, ma che vediamo in mostre permanenti e quanto altro. Il pubblico probabilmente è più aperto a questo modo di comunicare e però forse dai critici ancora c'è questa disputa, se si tratti realmente di arte alla stregua, di un impressionismo per esempio, ossia una mera forma di comunicazione, c'è ancora un po' di interrogativo? Guardi, l'arte secondo me si adatta ai suoi tempi. Io vengo adesso da una delle fiere più importanti in Italia, perché io come attività prevalente faccio il gallerista, una sede a Milano, un'altra a Napoli e abbiamo appena concluso l'arte fiera a Bologna, dove sabato e domenica c'è stata una folla da stadio, di un pubblico, dai ragazzini fino agli adulti, tra l'altro con un biglietto di 25 euro d'ingresso, quindi vuol dire proprio che l'arte contemporanea piace e attira molto. Intanto ricordiamo appunto questa mostra, Banksy è la Post Street Art al Museo Pan di Napoli fino al prossimo 16 febbraio. Io se siete d'accordo mi lascerei ancora un attimo guidare, perché abbiamo trasmesso delle immagini interessanti, Love is in a Bean per esempio, questa bambina con il palloncino col cuoricino che peraltro ha siglato un momento storico quest'anno nell'autodistruzione del quadro, ha fatto scalpore in tutto il mondo, quel quadro che è valso milioni di euro, adesso lo vediamo integro, ma in realtà è stato distrutto, autodistrutto e proprio nel momento in cui si autodistruggeva veniva celebrato ancora di più. Questa vale la pena ritrarlo. Esattamente, naturalmente queste sono delle serigrafie, l'opera che abbiamo visto lì nella famosa Casa d'Asta è andata distrutta in una maniera veramente da grandi effetti speciali. Ci sarebbe molto da dire anche su questa cosa che sicuramente è stata preparata a priori, però ecco da un punto di vista mediatico è stata una cosa che ne ha parlato tutto il mondo. Sono immagini che sono passate in tutti i paesi, in tutte le televisioni del mondo. E credo anche alla storia. E di grande ispirazione anche per molti autori letterari in questa immagine. Certamente sì. Grazie, grazie ad Andrea Ingenito per essere stato con noi. Ripetiamo, Banks e la Post-Richard al Museo PAN di Napoli fino al prossimo 16 febbraio. Grazie. Piccolo spazio pubblicitario. Grazie a voi.